a Rakataka, Gus, il mio compagno di Ande, il mio compagno di Ande per un bel pezzo di viaggio che poi lo vedo venerdì perché vado a fare una gara di bici sua nel nord-est, venerdì vado a fare una gara, una strettaffetta, una 24 ore, siamo in 12 nella squadra di Paolo Kessisoglu, lui ha questa squadra che ha messo in piedi per promuovere la sua associazione che si chiama C'è da fare, un'associazione che si occupa di aiutare attraverso i professionisti, gli operatori del Gaslini di Genova, si occupa di disagi legati all'adolescenza che sono una grande questione nel mondo di oggi, forse lo sono sempre state ma oggi emerge ancora di più questo problema, è ancora più evidente e serio, quindi il fatto che Paolo abbia dato vita a questa iniziativa, insomma io volentieri mi unisco a loro per promuovere questa associazione e quindi venerdì facciamo questa gara di bici, però quindi ciao Gusto